Gli uomini sono necessari al cambiamento, le istituzioni servono a farlo vivere. Sono le parole di Jean Monnet, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Chi ha responsabilità diretta nel governo delle grandi istituzioni sa bene quanto grave essa sia. Vi sono momenti in cui si è indotti a una pausa di riflessione su ciò che si è fatto, come su ciò che non si è fatto e che rimane da fare, per far sì che le istituzioni rispondano al loro compito. L'Italia è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea. Con questa certa siamo liberamente imposti di costruire istituzioni democratiche, più efficienti, più vicine al cittadino, più capaci di assicurare al paese quei valori di stabilità, indispensabili per fruire in massimo grado dei vantaggi della partecipazione all'Unione Europea. Per queste ragioni mi trovo perfettamente d'accordo con il Presidente Berlusconi che sta impostando un grande discorso di cambiamento del nostro paese. e trovo anche opportuno in questa occasione di dare a tutti voi, alle vostre famiglie, un buon Natale e un felice anno nuovo.